Grazie Dove vai? Grazie a tutti. Va bene Dalia, tanto quella lì la beve solo da baffi, lo beve, quella di da sola. Guarda. Questa è mia di Gabri e del mister. Quella dello staff. Quella dei mister di dirigenza, c'è questa qua, piccolina. Stai cucinando la coca? Si. Teniamole l'acqua. Autorizzate dai. Questo l'acqua ha detto in polvola. Noi avete prizzante, naturali. Eh... Ok.